La Regione ha annunciato a fine anno come regalo per questo 2024 lo stanziamento di 4 milioni di euro per la Regione Marche per la fascia 06. È un'ottima notizia. Sono anni che con la maggioranza e anche con i consiglieri regionali portiamo avanti questo appello di supporto da parte della Regione, come fanno tante Regioni virtuose in Italia, nella fascia 06. I bisogni delle famiglie sono cambiati, lo sappiamo, dal Covid in poi c'è una maggiore richiesta di nidi, nello specifico per la fascia 03, e su questo mi sono esposta più volte nel capire, insieme alle famiglie, insieme al coordinamento pedagogico, gli uffici e l'amministrazione, come poter incrementare questa offerta. Sicuramente questi fondi in più che per la città di Pesaro dovrebbero aggirarsi sui 160-170 mila euro verranno impiegati come promesso nella creazione di nuovi posti nido e nella ottimizzazione dei servizi che già abbiamo. Sono fondi che sono già vincolati a determinati utilizzi, che sono la formazione, che sono il personale, che sono l'adattamento degli ambienti di apprendimento e così noi faremo. Già a bilancio con le finanze del Comune, quest'anno abbiamo messo in programma per il prossimo anno scolastico 15 posti per la fascia 03, nello specifico 2-3 anni con un'apertura di una sezione primavera. Un servizio che continuiamo a potenziare e abbiamo continuato a potenziare. Se la Regione manterrà questa promessa, oggi a bilancio c'è zero, ma noi siamo fiduciosi che l'assessore Abiondi e il presidente Acquaroli possano fornire a noi degli uffici, a noi amministratori, la possibilità e la tempistica di programmare questi servizi perché poi le iscrizioni, è vero che la scuola partirà a settembre 2024, ma per il mondo scolastico siamo già in organizzazione molto fattiva di quello che sarà l'offerta del prossimo anno scolastico. Quindi mi auguro nella tempestività, mi auguro che ci sia la possibilità di incrementare questo finanziamento nei prossimi anni proprio come segnale che avevamo già segnalato di un bisogno crescente, di una fiducia nei servizi educativi da parte delle famiglie del nostro territorio.